Salve ragazzi e bentornati con un prossimo video di questa nuovissima serie, la Sixty Jump Probabilmente conoscerete già la Forty Jump, sarebbe portata già da un paio di youtuber su qualche canale La Forty Jump, da qualche giorno è stata messa online la Sixty Jump Praticamente 60 salti, mentre quella lì erano 40 livelli, qui ce ne sono 60 Ok ragazzi ecco qui, siamo su Sixty Jump, è la stessa template praticamente della Forty Jump Probabilmente avranno aggiunto qualche blocco che adesso andremo a vedere Vediamo prima queste destre, che stavo vedendo già prima, youtuber che hanno giocato questa mappa Ok, già ne sono tipo 400.000, magari io avrò fatto qualche errore, però comunque non conosco questa mappa Magari sicuramente ci sarà già qualcuno che l'avrà portata su Youtube Italia No, forse Youtube Italia no, però c'è qualche youtuber qua che ha portato questa mappa, non lo so Ok, quindi io direi di partire, Sixty Jump lì c'è la, diciamo il logo della mappa così possiamo chiamarlo Allora, leggiamo prima queste regole Il blocco rosso ti uccide Il blocco arancione ti dà un jump boost, quindi ti dà il salto veloce Il blocco giallo ti dà degli effetti Il blocco verde chiaro ti dà la velocità, quindi la speed Il blocco verde scuro, vediamo un po' che ci dà Allora, sign of this block with summon area of firewood, non ho capito niente Il blocco light blue ti dà il checkpoint E il blocco purple, tipi of fire blocks, forse ti fa andare avanti Ah, teletrasporta a 5 blocchi, forse ti fa andare avanti di 5 blocchi, non lo so Il blocco rosa ti fa andare indietro di 5 blocchi, se ho capito bene Il blocco marrone, this block detects and kills for you, non ho capito niente Il blocco ciano, wither per 2, non ho capito E il blocco nero, puoi sprintare, ah forse non vedi niente Sì, perché probabilmente questo già c'era nella forti jump Ragazzi, io non ho niente più da vedere, vediamo qui Regole, leggiamo qualche regola, allora non fare la game mode, non piazzare i blocchi Non rompere i blocchi, vabbè, gioca questa nella 1.8, io sono nella 1.8.9 però credo vada bene Vabbè, il creatore di questa mappa e startiamo la nostra mappa Parkour, la prima mappa è molto diversa, molto molto diversa Ok, giochiamo Allora, ah finito, vabbè andiamo avanti Ah, qui si comincia, ecco qui Allora, yellow stage, yellow stage, ok, qui ci dà il salto Ah no, qui, ah qua, questo qui ci dà, ok Ok, fino a qui è una stupidata Credo che in questo episodio voglio almeno arrivare fino al livello 25 Sì, no, fino al livello 15, magari 10 Ok, qui diventa un po', allora, voglio provare il blocco rosso Ah, ok, ci ammazza, ok, quindi l'avevo capito bene Lo stesso scopo dei blocchi rossi che ti ammazzano c'è anche nella 40 jump Quindi così, no, per farvi capire Allora, scusatemi se lagga Però sto caricando un botto di video Vi sto caricando i minigame che probabilmente avete visto già un po' di tempo fa I minigame quello lì del muro di Berlino in Minecraft, non lo so Anche se questo video uscirà prima probabilmente vi sto spoilerando Ok, abbiamo finito già a livello 5, siamo a livello 6 Questo qui, ah, questo è jump boost, quindi è molto molto pariante Non è vero mai nella vita Ok, allora, probabilmente ci avremo tantissime sclerate su questa No, no Probabilmente ci avremo tantissime sclerate su questa mappa Ma la vedo già dura farmi tutte queste sclerate Probabilmente non ci saranno sclerate, ci saranno proprio omicidi Probabilmente tra qualche giorno per depressione della sexy jump Mi vedete nei telegiornali Mi vedete sui telegiornali Magari per omicidio, per depressione, per la sexy jump No, no, basta Allora, andiamo avanti Siamo a livello 6 e già ci risulta molto molto difficile Allora, io non sono portato per il parkour assolutamente no Anzi, va sopra Ok, no, non ho mai nella vita, non è vero Siamo già morti 61 volte No, per farvi capire siamo a livello 7 Già siamo morti 36 volte Allora, io la forti jump l'ho giocata Però questa qui mi sta piacendo Fino adesso mi piace Allora, spero che questa mappa non l'abbiate vista ancora No, 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 no È un salto impossibile È un salto impossibile No, l'ho sprintato, scusatemi Allora, è un salto impossibile Sono morto ancora Allora, la sexy jump a livello 7 Era molto molto più semplice Molto molto più semplice Allora, non so quando vi caricherò questa mappa Probabilmente quando c'è il video casuale di lunedì Probabilmente sì Come faccio? Come faccio mai nella vita ad andare lì? Come faccio? Come faccio? Ah, ragazzi, devo dirvi che oggi c'è la mia mascotte del canale Oggi c'è la mascotte che me l'avete chiesta in tanti Il tapiro di staffelli Tapiro, per favore, aiutami, dammi una mano a fare sta mappa del merda Perché Allora, mi devi dare una mano Capito? Mi devi dare una mano Allora, intanto lo faccio vedere Aspettate, non vedo la webcam Ve lo faccio vedere Eccolo qua, vedete com'è bello Il tapiro di staffelli No, il tapiro di staffelli è epico Madonna mia, non lo so Staffelli Staffelli me gusta staffelli Oddio, aspettate Oh, oh, ma vaffanculo Per un blocco Per un blocco Per un blocco Poi sì, probabilmente si può dare il computer Perché farò una roba come 45 minuti di registrazione Però ne vale la pena portare questo sclero sul canale Ok, allora, ma vaffanculo 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 Signori Con vivo rammarico Siamo a livello 8 E non riesco a fare questo cavolo di salto Quel cavolo di salto Non riesco a farlo Siamo a livello 8 Sono morto tipo 150 volte Ma perché vi ho fatto i tagli Se non vi avevi fatto i tagli Sarei morto Oh Silenzio Silenzio Vaffanculo Vaffanculo Pezzi Che è un penne Ah, no No, scusate Pensavo che era un penne Allora Andiamo avanti Ok Manca farlo apposta Allora, ma questo se lo tocco qua Ah, no, non voglio Figo Dove vado? Dove vado? Oddio Dove vado? Ah, lì Ah, è una roba come E mo? Do cazzo vado? Qua vado Ah, forse devo salire Oh, ah, no Questo non è sprint Oddio, no Non mi dire che devo fare Eh, no Si muore Però lì Allora Non ho capito Proprio Fino alla fine Non ho capito Un po' proprio bene Allora, ho capito Che devo andare qui Poi dopo Dove vado? Non so Dove vado dopo Allora C'è direttamente Il checkpoint Quindi Non so dove Ci dovrebbe essere Un blocco nascosto Secondo me c'è un blocco nascosto Che non ho visto Allora Ah Ma vaffa Ma se non mi date tempo No, di saltare Forse ho capito Ah, forse ho capito Non è che non ho capito Forse ho capito Allora Andiamo lì Si, domani mattina Sono morto 205 volte Voglio capire Quando arriverò A livello 60 Quante volte sarò morto Così per curiosità Dimelo capito Ok Ok Allora Eh Allora Dovrei Secondo me ho capito Devo passare Vedete Perché mi hai fatto fare Questa mappa Perché Allora Secondo me Devo passare In mezzo Questa striscia Con lo sprint E poi Ma non ce la faccio Neanche Devo far così Me lo sento No È troppo difficile È troppo È troppo complicato Troppo difficile Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Spero che questo video Vi sia piaciuto E noi ci vediamo Con un prossimo episodio Della Sixty Jump Credo Settimana prossima Ma non riesco a mente Non è la programmazione Ragazzi Io il tapino di Staffelli Vi salutiamo Spero che questo video Vi sia piaciuto E noi ci vediamo Con un prossimo Video sclero Della Forti Jump Spero che questo video Vi sia piaciuto E noi ci vediamo Un prossimo video Bella Ciao 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 Ciao